Buongiorno, siamo con il Vice Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale. Buongiorno. Assessore, dal primo marzo è partita la distribuzione per conto dei salvavita nella Regione Liguria, appunto, voluta e sostenuta fortemente da lei. Che resoconto possiamo fare a distanza di quattro mesi? Intanto faccio un piccolo passo indietro, perché il rapporto con le farmacie del territorio fanno parte del piano sociosanitario di Regione Liguria approvato a dicembre 2017. La farmacia dei servizi è un punto di riferimento, un punto sanitario in un territorio come quello della Liguria, lungo e stretto, con tanto entroterra e quindi dobbiamo valorizzare le risposte della sanità a chilometro zero e la distribuzione nome per conto rientra in questo percorso, in questo progetto. Non è stato semplice, abbiamo avuto un po' di difficoltà intanto a fare il quadro della situazione, l'esistente, individuare ciò che non funzionava prima, una modalità diversa di distribuzione dei farmaci salvavita nelle cinque AS della Liguria. Noi abbiamo l'intento di avere una governance di sistema, quindi un cittadino di Sarzana piuttosto che uno di Ventimiglia deve avere gli stessi diritti e la stessa accessibilità ai servizi. E quindi devo dire che il resoconto di questi primi mesi è sicuramente positivo, migliaia di farmaci distribuiti nelle farmacie è sicuramente un dato molto positivo. Ecco, avete già un riscontro da parte dei pazienti sulla loro maggiore capacità e possibilità di recuperare i farmaci appunto? Ci sono due livelli di riscontro. Uno è la percezione, stando in mezzo alle persone e chi purtroppo ha necessità di un farmaco salvavita e sono tanti nella nostra regione che è una regione di anziani, soltanto il non dover andare nella farmacia ospedaliera, quelle due o tre giornate alla settimana per poche ore di apertura, ma andare nella farmacia sotto casa già cambia la vita e quindi tutte le persone che ho avuto modo di sentire per quanto mi riguarda, hanno ringraziato per questa veramente vicinanza del sistema sanitario ai loro bisogni quotidiani. Però siccome certamente i processi devono essere accompagnati da una valutazione, si tratta di una sperimentazione che ha la durata di un anno e quindi stiamo facendo proprio tutto il bilancio, un percorso continuo di verifica sia sul costo sociale, cioè quanto le persone risparmiano con questo sistema, benzina, tempo, e sia quanto si risparmia come sistema sanitario perché al di là di quello che può essere un costo aggiuntivo sulla carta e l'agio riconosciuto alle farmacie, in prospettiva sicuramente avremo anche un risparmio complessivo sulla spesa farmaceutica. Le opposizioni non hanno all'inizio mostrato parere favorevole a questa decisione. Adesso sono convinti di aver intrapreso la strada più giusta o ancora no? Non ancora. Nel senso che io ho trovato su questo tema una forte resistenza, un po' ideologica, come se le farmacie territoriali, sia pubbliche che private, non fossero utilizzabili per dare delle risposte ai bisogni sanitari dei cittadini. Io ritengo invece che questa è una risposta lungimirante, che guarda al futuro e tutte le varie criticità che hanno evidenziato le opposizioni sono sicura che riuscirò a rispondere punto per punto, con serietà e concretezza, al di fuori dall'ideologia. Assessore Viale, noi la ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie e buon ascolto. Arrivederci.